Buonasera a tutti, grazie per essere venuti a distanza di pochi giorni dall'ultima conferenza. Oggi siamo qui per presentare due dei nostri protagonisti di questa squadra, nuovi arrivati, Duccio da un po' di tempo e Stefano, gli ultimi giorni di mercato, l'ultimo giorno. Oggi tutte le attenzioni sono su di loro, sono due ragazzi cercati e voluti fortemente. Duccio, io lo conosco da quando ho visto la prima volta la finale primavera Empoli-Atalanta e poi quando ero a Firenze c'era la finale di Coppa Italia ad Empoli e giocavano lì i Fazzini in mezzo al campo e mi è rimasto un po' impresso per le sue qualità. Stefano invece, lo conosciamo un po' tutti, ha una carriera un po' più vecchia rispetto a... a Duccio, è un quartiere ancora giovane per me, può esprimere ancora tutto il suo potenziale che secondo me è abbastanza importante e siamo contenti di averlo qui e questo voglio ringraziare la Juve, Stefano, Stefanelli e il direttore Chiellini che ci siamo messi a disposizione nei nostri confronti affinché questo trasferimento venga già volato. Lascio la parola a loro. Un saluto a tutti, sono presenti come rappresentato il direttore, intanto volevo ringraziare sia il direttore che comunque tutta la società per la fiducia e per questa grandissima opportunità che mi viene data. Sono un centralampista, un player, l'anno scorso ho fatto anche la mezzala quindi posso evapire anche quel ruolo. ho la fortuna di allenarmi con gente dalla quale posso rubare veramente tanto quindi non vedo l'ora di mettermi in gioco. Buonasera a tutti, io sono Stefano e come saprete faccio il portiere e niente, sono molto contento di avere questa ottima opportunità qui a Spezia quindi ci tengo a ringraziare il direttore che ho incontrato nell'ultimo giorno in mercato e quindi mi ha fatto capire l'importanza di questa società e di questo gruppo. Abbiamo già avuto modo di lavorare appunto col gruppo, col mister e adesso prepariamo il resto del campionato. Ciao Eurico Lazzeri, benvenuto, ti faccio chiaramente la domanda insomma subito diretta, dovrei giocare titolare, sei venuto apposta per cercare di rinforzare il reparto dei portiere e ti ritrovi cato appuntato a fare titolare? Sì, quando negli ultimi anni, tra l'anno scorso l'esperienza di crescita che ho avuto a Monza, ho sempre avuto modo di giocare quindi non è una cosa che comunque mi spaventa, ci mancherebbe e sono pronto, ho voglia, soprattutto dopo come se è stato fermo un anno, ho voglia di rimettermi in gioco e quindi benvenuto. Ciao Eurico, benvenuto. Buonasera, grazie. Parlassi un po' delle tue caratteristiche, visto che non ti abbiamo ancora visto. Sì, sono un play, come dicevo prima, l'anno scorso ho ricoperto anche l'oro di mezzara, quindi ho fatto pure quello. Sono un brevilineo, mi piace giocare la palla, mi piace rincorare gli avversari, sono un giocatore molto duttile e diciamo non vedo l'ora di poter aiutare la squadra in questa stagione. Ciao entrambi, benvenuti, Nicola Pasta, Città della Spezia, parto anch'io da Stefano e ti chiedo, sei arrivato all'ultimo giorno di mercato, però ritrovi un allenatore che hai già avuto nel corso della tua carriera, questa cosa ti ha aiutato nella scelta, come ti ha accolto il mister, come lo hai ritrovato a distanza di anni, come è cambiato? No, diciamo, no, io il mister D'Angelo già lo conoscevo ai tempi di Pisa, quindi non abbiamo troppi segreti uno o l'altro, mettiamolo così. E niente mi ha accolto come un qualunque altro giocatore, quindi era questo, come c'è, 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 con rispetto, bene o male conosco già il suo metico, dove sono i modi di lavorare e, diciamo, sono stato anche agevolato in questi giorni, in queste ore di allenamenti, perché, come ho detto già, conoscendolo, sapevo cosa si andava incontro. Sì, Duccio, a te prima hai detto una cosa importante, che giochi con ragazzi che ti aiutano a migliorare e dopo puoi rubare, no? Nel tuo ruolo c'è un giocatore come Salvatore Esposito che, diciamo, anche per come è iniziato questo campionato, può essere veramente un grande esempio. Come ti approcci a lui, nel senso, quanto lo studi, quanto ti aiuta anche lui? Certo, la fortuna di avere Salva davanti come punto di riferimento. Ci parliamo spesso, mi aiuta e per me, diciamo, è una fortuna avere un giocatore con queste caratteristiche davanti, dal quale posso imparare veramente tanto. Massimo. Sì, buongiorno, Massimo Guerra, secolo XIX, Gazeta della Spezia. Una domanda per Stefano. Tu sei giovane, come diceva il direttore, però hai più di cento presenze in Serie B, diciamo, con ottime performance, soprattutto nel Pisa, insomma, dove comunque hai centrato la promozione. Qualche, insomma, altra situazione in altre squadre. Ti chiedo, visto che sei appunto, come diceva il collega, arrivato in un momento che ti vede proprio protagonista, perché adesso devi prenderti una grossa responsabilità, pensi che sia anche un'ottima occasione anche per un rilancio, insomma, della tua carriera? Sì, qualunque partita sia un'occasione per poter far bene. E, chiaramente, se solo mi partite fatte bene, ti posso soltanto aprire ottimi scenari per la carriera. Ah, sì, scusami. Dunque, invece, sì, a Duccio, niente, lui l'anno scorso nell'Eco hai fatto un buon campionato, insomma, ti sei consolidato in categoria, anche se poi sono andata a finire, come sappiamo. Quest'anno mi conti comunque di trovare spazio e, se sì, eventualmente in che ambito nel centro campo? Sì, hai detto bene. L'anno scorso ho fatto un'esperienza veramente importante per me, perché, diciamo, era il primo vero anno tra i grandi. Ho avuto la possibilità di mettermi in gioco, di fare presenze, di crescere, perché con le partite comunque riesci poi a crescere. Quest'anno io lavoro sempre durante la settimana bene per itagliarmi uno spazio, ovunque esso sia il mister deciderà dove mettermi e io, insomma, mi farò trovare pronto in qualsiasi momento. Marco Zanotti, il volo alla nazione, volevo chiederti, hai già notato qualche differenza rispetto all'anno scorso, al campionato che hai giocato l'anno scorso, in questo inserimento che stai avendo in Onospezia, e ti spaventa un po' questo grande blasone di tante squadre in un campionato stranissimo, perché, come è appunto già accaduto, chi doveva essere in alto adesso è dietro e chi doveva essere dietro adesso è in alto. Come giudì? Beh, sin da quando sono arrivato subito ho notato la qualità, insomma, della rosa, rispetto all'anno scorso chiaramente è una rosa con magari più qualità, con obiettivi forse leggermente diversi, quindi la differenza sì l'ho notata, e questo insomma l'ho notato sin da subito, diciamo. Ti spaventa il fatto, l'hai già risposto, però il fatto che hai giocato non tantissimo, dovrai probabilmente giocare subito una partita importante fra una settimana a Cremona. Sono stato fermo un anno, quindi alla fine non tantissimo che intende lei, probabilmente sarà inerente all'annata appena passata. Non penso di avere grossi problemi, faccio il portiere da tanto tempo, quindi diciamo le misure più o meno della porta sono sempre 7.32 e 2.44, quindi sono sempre quelle, non sono cambiate negli anni. Volevo aggiungere una cosa tanto disegnante. Le tue caratteristiche principali, sei più bravo tra i pali, l'uscita, terra, cosa ci dobbiamo aspettare da Gori? Mi reputo un portiere tutto sommato completo, mi piace giocare, mi piacciono tanto le uscite alte, mi piacciono magari le parate ravvicinate, sono un portiere diciamo di caratteristiche più esplosive e basta. Stefano ti voglio chiedere, visto che conosci già anche il mister e tutto, cosa trovi in questo gruppo diciamo, a immagine e semiglianza del mister anche rispetto alle tue esperienze passate con il mister che sono state vincenti? No, lui col mister, ripeto lui è un ottimo allenatore soprattutto quando si tratta di tenere il gruppo, ho notato che in questi giorni non ci sono differenze sostanziali rispetto a quello che è stato il mio vissuto, quindi lavorando tanto sul gruppo, lavorando tanto su giocatori atleti che hanno voglia di allenarsi, che hanno voglia di dare al 100%, ecco, lui è molto bravo a trasmettere questo. Quindi si cerca di non lasciare niente al caso, questo è sostanzialmente il lavoro. Grazie, a Duccio invece volevo chiedere che gruppo ha trovato, visto che si parla di un gruppo molto affiattato che già dalla seconda parte della stagione scorsa è andato spedito verso, per fortuna, la salvezza, anche se era difficile, ecco, che gruppo hai trovato? Guarda, sin da subito veramente ho trovato un gruppo veramente unito, sono stato accolto veramente bene da tutti, c'era già qualcuno con il quale avevo giocato insieme, per esempio Filippo Bandinelli, quindi sono stato subito accolto benissimo e mi trovo veramente bene. Sì, faccio una domanda che vale un po' per entrare, poi ne faccio una al direttore se posso. Avete avuto tu, Duccio, due volte, Stefano, una volta il battesimo del picco, soprattutto l'ultima vittoria all'ultimo secondo. Vi chiedo, Stefano, tu hai vissuto tante volte i campi delle serie B, Duccio tu magari un po' meno, però immagino che le partite le abbia. Guardate che tipo di emozioni avete provato, soprattutto l'ultima vittoria all'ultimo secondo, in una situazione incredibile, diciamo. Veramente, il fattore stadio è una cosa che mi ha colpito veramente tanto, perché ci dà una mano incredibile, quando ci siamo in casa sentiamo proprio la differenza, una differenza importante. Insomma, le partite lo hanno dimostrato, perché comunque abbiamo fatto due risultati veramente, forse anche storici, veramente belli. Quindi siamo contenti di avere una tifoseria così calda, così bella e faremo di tutto per dargli grandi soddisfazioni. Sì, ho sposo appieno quello che è appena detto Duccio, quindi è chiaro che la prima partita picco, lo stadio, tutti i nostri settori che sono completamente pieni, che incitano la squadra, sono il dodicesimo uomo in campo, come si suol dire. Cerchiamo di dare loro le migliori impressioni e i migliori momenti per far sì che loro ci seguano il meglio possibile. Sì, direttore, due domande in una. La prima, se questi giorni sono serviti come valutazione per sciogliere i dubbi, se avete intenzione di tornare sul mercato per un portiere o meno. E poi una curiosità, perché ho letto l'altro giorno le parole del direttore generale del Cesinartico, che dice che lo Spezia non ha fatto allenare Antonucci. Diciamo che sono un pochino notizie discordanti rispetto a quello che abbiamo raccolto noi nelle settimane precedenti. Le chiedo appunto un commento anche su questo, grazie. A quanto riguarda il portiere, in questo momento con il ministro abbiamo valutato di continuare come siamo, anche perché dovrebbero rientrare Crespi e abbiamo anche degli impegni non tanto consecutivi, in quanto c'erano delle sostene nazionali anche nell'intermezzo. Se tutto va bene, fra Crespi e Sar, fra metà ottobre e metà novembre, che avremo entrambi. Quindi non abbiamo grosse problematiche. Poco ci fosse, Scaramazzia, facendo una necessità, si può sempre attingere da un giorno all'altro al mercato degli svincolati. Per quanto riguarda la dichiarazione fatta dal mio collega del Cesena, e forse lui si riferisce al fatto che Antonucci non è arrivato in condizione, ma non conoscendo l'analisi della situazione, non può dirlo, in quanto era il ragazzo, ha chiesto un esogono con certificato medico e aveva iniziato la preparazione 12 giorni dopo, perché ha chiesto 7 giorni di certificato più il tempo delle visite mediche, quindi ha perso 15 giorni di preparazione. Sul fatto che magari si è ritardo di preparazione, concordo, ma non per una scelta per lo Spezia, ma con una situazione che il ragazzo non stava bene, quindi è arrivato in ritardo in ritiro con la squadra. Poi dopo 10 giorni è andato via a Cesena. Quindi noi abbiamo messo a disposizione tutto per Antonucci, anche perché fino a quel momento era un giocatore con lo Spezia, e quindi dobbiamo considerarlo come tale.